Allora quest'anno nonostante la crisi devo dire che il festival continua ad essere il festival di sempre quindi ci saranno 13 appuntamenti in tutta la regione toscana perché è bene ricordare che il livello, questo festival ideato, pensato e realizzato prima in provincia di Arezzo poi si è stesso a tutta la Toscana fino a diventare comunque il festival più importante in Italia. Nel nostro territorio ci saranno sette appuntamenti nelle varie vallate sia nelle chiese, nei teatri ma anche lungo le vie quindi sarà un grande momento di festa dove, e bisogna dirlo, questo genere musicale appassiona tutti gli amanti della musica in generale anche i non amanti della musica e tutte le età, dai giovani ai meno giovani quindi anche per questo che la provincia nonostante le difficoltà ha voluto rinnovare il suo impegno a sostenere questo grande evento che è anche un grande esempio di collaborazione pubblico e privato e quindi di come la cultura vada sostenuta e debba essere giustamente anche incanalata per poter continuare a sopravvivere. Sì, siamo appunto a 18 anni di festival in questi anni hanno partecipato al festival qualche migliaio tra musicisti e cantanti anche quest'anno il festival ha 13 appuntamenti in altre tante città della Toscana sette di queste in provincia di Arezzo in particolare il primo appuntamento è il 16 in pomeridiana quest'anno abbiamo inserito degli appuntamenti pomeridiani lungo le vie del centro storico quindi ad Arezzo e poi il festival andrà a Sansepolcro, a Montevarchi, a Lucignano ancora ad Arezzo in serale al Teatro Mecenate e poi l'ultimo appuntamento nella nostra provincia sarà a Cortona il 27 dicembre al Teatro Signorelli si alterneranno teatri e chiese e nei dei chiese ovviamente l'ingresso è gratuito nei teatri ci sarà un biglietto però diciamo questo è un genere è un festival che ha sempre avuto una partecipazione del pubblico molto massiccia, molto importante